Un ulteriore smacco al Ministero dell'Ambiente. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Roma contro la decisione del Tardabruzzo che aveva giudicato illegittimo l'annullamento della gara d'appalto per la bonifica delle aree inquinate di bussi sul Tirino. Undici anni dopo la scoperta della più grande discarica d'Europa, la gara d'appalto era stata vinta nel 2018 dalla ditta belga Dekdeme. Una gara la cui illegittimità era stata precedentemente difesa dallo stesso Ministero nel 2017 facendo fronte a un ricorso della Toto Holding. Nel 2020 poi il Ministero intraprese una serie di azioni sibilline indubbiamente ambigue. Prima ha dirottato i circa 50 milioni destinati al sito verso il dicastero dell'economia per poi fare dietro front alcune settimane dopo. Successivamente da Roma si è deciso senza alcuna spiegazione di annullare l'appalto per i lavori di bonifica illegittimamente secondo il Tar e ora anche secondo il Consiglio di Stato. La bonifica sarebbe dovuta partire immediatamente dopo la firma del contratto per poi essere risarcita in base al principio di chi inquina paga da Edison, la multinazionale individuata da Tar e Consiglio di Stato come responsabile del disastro ambientale. Ora però come detto una nuova sentenza stabilisce come illegittimo l'annullamento della gara. Festeggiano il sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta e le associazioni ambientaliste che però ricordano quanto tempo sia stato perso a causa di provvedimenti poco trasparenti e senza basi giuridiche ad opera dei funzionari ministeriali. Dello stesso avviso il presidente della giunta regionale Marsilio è stata smentita la linea imposta dall'ex ministro Costa e dal sottosegretario Morassut, ha detto il governatore, linea difesa in Abruzzo da PD e 5 Stelle. E il consigliere regionale PD Antonio Blasioli che è stato presidente della commissione d'inchiesta difende il suo partito. Chi ha bloccato la bonifica non è il PD, ha dichiarato Blasioli, ma semmai la scelta tecnica di esperti del ministero che hanno deciso di seguire il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che si era espresso negativamente sul progetto. Questa la tesi del consigliere di centrosinistra, smentita però dal Consiglio di Stato. Quel parere era interlocutorio e non una bocciatura, è scritto tra le motivazioni della sentenza. Intanto sono trascorsi 14 anni dalla scoperta delle discariche, mentre l'allestimento del telo protettivo è terminato solo quest'anno e soprattutto mentre, come certificato dall'Arta, le sostanze tossiche continuano a contaminare l'acqua, il terreno e l'aria della zona.